a conversario vado qui ultra 1 minaccia nemica moderata vicino a voi ultra 1 bullfrog individuato volete sulla mappa tattica trasporta una preziosa valigetta delle armi potete ingaggiarmi bersaglio a terra attenzione da queste panni oltre a uno un operatore nelle vicinanze sta chiedendo a combattere attenzione ultra 1 servono pure un operatore nella tua area granata partita ultra 1 un operatore vi segure presso la tua posizione non è ora di morire non deve più succedere non è stato non è stato Questo è il mio corso. Ultra 1, attenzione, elicottero di supporto nemico in avvicinamento. Capo Ultra 1, attenzione, elicottero di supporto nemico in avvicinamento. I like to feed them, they be chillin', yeah, they be screamin'. I can hear them in my mind, they just wanna find any fight, any reason. There ain't no place to hide. I fear I'm coming to the high side. Reservano colpi di medio calibro. Capo Ultra 1, attenzione, ritorno al sito. Segnale via d'acquisizione. Tess, contacto! Tess, contacto! Tess, contacto! Tess! 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 Tess!